Il professor Gabbiano Joguld è un ometto allegro e sparuto che da un quarto di secolo è una celebrità nei caffè, nelle trattorie e nelle topaie del Greenwich Village qualche volta si vanta con un pizzico di ironia di essere l'ultimo dei bohemi gli altri si sono persi per strada dice qualcuno è nella tomba qualcuno è in manicomio e qualcuno nel mondo della pubblicità la sua vita è tutt'altro che spensierata Gould è affitto da quella che chiama le tre S stomaco vuoto, sborni e senza tetto dorme sulle panchine delle stazioni della metropolitana sul pavimento dello studio di qualche amico e nelle pensioni da un quarto di dollaro della Boverie di tanto in tanto si trascina fino a Darlem e va in uno degli istituti noti come Estensioni del Paradiso gestiti dai seguaci di Father Daven il predicatore negro e per 15 centesimi trova una sistemazione per la notte Gould è alto un metro e 63 e non pesa quasi mai più di 45 chili non molto tempo fa disse a un amico che non faceva un pasto come si deve dal giugno 1936 quando aveva scroccato un passaggio fino a Cambridge e partecipato a un banchetto delle classe 1911 di Howard della quale fa parte anche lui dice sono il maggiore esperto degli Stati Uniti nell'arte del fai a meno racconta alla gente che lui vive di aria presunzione, mozzicone di sigaretta caffè da cowboy panini al uovo fritto e ketchup il caffè da cowboy dice è caffè forte, nero e senza zucchero ho perso da molto tempo il gusto del buon caffè dice riferisco di gran lunga il tipo che prima o poi se continui a berlo le mani cominciano a tremarti e il bianco degli occhi ti diventa giallo l'abitudine quando prende un panino Gould svuota una bottiglia o due di ketchup nel piatto e mangia la salsa con il cucchiaio appena mette piede nel Jefferson Diner di Village Square che è uno dei suoi ritrovi abituali i camerieri raccolgono le bottiglie di ketchup e le nascondono non che questa robaccia mi piaccia granché dice Gould ma ho preso l'abitudine di mangiare tutto quel che trovo che io sappia il ketchup è l'unica cosa che non ti fanno pagare Gould è uno Yankee il ramo dei Gould da cui discende arrivò nel New England nel 1635 ed egli ha imparentato con molte delle altre antiche famiglie del New England come i Lawrence, i Clark, gli Storer non c'è nulla di casuale nella mia persona ha detto Gould una volta vedrò io che cosa c'è voluto per fare di me quello che sono oggi c'è voluto del vecchio sangue Yankee un'incontenibile avversione per la proprietà quattro anni di Howard e venticinque anni passati a guastarmi vita e budella con cattivi liquori e cattivo cibo dice di non essere in sintonia con il resto della razza umana perché non vuole possedere nulla se il signor Chrysler cercasse di regalarmi il Chrysler Building dice scapperei a rotta di collo non sarei io a possedere l'edificio ma l'edificio a possedere me nel Massachusetts mi chiamerebbero vecchio Yankee strampalato qui mi chiamano Bohemian se non ha zuppa e pan bagnato Gould ha la voce stridula e l'accento di Howard i baristi e i camerieri del village lo chiamano il professore il gabbiano professor gabbiano la mangusta professor mangusta oppure bel view boy Gould porta gli abiti smessi degli amici il soprabito il vestito la camicia persino le scarpe sono sempre una o due taglie troppo grandi ma lui li indossa con una sconsolata disinvoltura ma guardate mi dice l'unica cosa che mi va bene è la cravatta nelle rigide giornate d'inverno infila uno strato di giornale tra la camicia e la cannottiera sono un po' snob dice uso solo il time mi piacciono molto i copricapi insoliti un cappellino di lana con il pompon un vasco o un berretto da marinaio una sera d'estate comparve a un ricevimento con un vestito di cotone a strisce un apolo una fascia di seta scarlata intorno alla vita sandali e un berretto da marinaio tutta roba di seconda mano Gould usa un lungo bocchino nero e il più delle volte fuma mozziconi raccolti sui marciapiedi la vita da Bohemian lo ha infecchiato ben oltre i suoi anni ultimamente ha preso l'abitudine di chiedere alla gente che ha appena conosciuto di indovinare la sua età le supposizioni variano dai 65 ai 75 anni Gould ne ha 53 non ci resta mai male la considera una prova della sua superiorità dice vivo di più io in un anno che la gente comune in dieci Gould è senza denti quando parla la mandibola slitta da una parte all'altra sul cocuzzolo è calvo ma sulla nuca i capelli sono lunghi e ricci ha anche una barba cescugliosa color cannella porta un paio di occhiali sbilenchi e troppo lunghi che gli scivono sulla punta del naso un attimo dopo che li ha infolcati per strada non sempre li mette e allora gli viene lo sguardo folle e sfocato dal vecchio studioso che si è rovinato gli occhi su caratteri troppo piccoli persino nel village la gente si volta spesso a guardarlo è un po' curvo e cammina in fretta borbottando fra sé e sé con la testa protesa in avanti e piegata di lato di solito stringe sotto il braccio sinistro una cartella di cartone marrone rigonfia e unta ed ondora il braccio destro con fare aggressivo a vederlo così sembra che scaccia un nemico immaginario una volta il pittore Don Freeman, suo amico lo ritrasse mentre camminava poi intitolò lo scherzo Gould contro gli elementi Gould è il requieto e indipendente come un gatto randagio e fa lunghe passeggiate per la città di tanto in tanto sparisce dal village per intere settimane sconcertando gli amici nessuno è mai riuscito a capire dove vada quando torna, sempre con un'aria molto soddisfatta si limita ad un enigmatico commento ridacchia, poi non apri più bocca ho fatto una camminata ornitologica lungo il fiume con una vecchia contessa ha detto dopo l'ultima assenza la contessa e io abbiamo passato tre settimane a studiare i gabbiani non lo si vede quasi mai senza la sua cartella la tiene in grembo quando mangia e nei dormitori se la mette sotto la testa di solito contiene un ammasso di manoscritti oppure lettere, ritagli e copie di oscure rivistuccole una boccetta d'inchiostro un dizionario un sacchetto di mozzicone di sigaretta un sacchetto di briciole di pane e un sacchetto di quelle caramelline dure e tonde dal sapore aciduro che si trovano nei grandi magazzini combatte la stanchezza con le caramelline dice Gould le briciole sono per i piccioni come molti altri eccentrici Gould ama dare da mangiare agli uccelli è affezionato a uno stormo che ha il proprio quartier generale sopra e intorno alla statua di Garibaldi di Washington Square i piccioni lo conoscono quando si avvicina e va a sedersi sul piedistallo scendono a posaggisi sulla testa e sulle spalle in attesa che tiri fuori il sacchetto di briciole ad alcuni Gould ha dato un nome vieni, vieni brigante dice questa mattina nella Stuart Cafeteria una signora non ha finito il suo tost di pane integrale e appena è uscita zacchete mi ho ferrato del piatto apposta per te salve Pettorone salve Scacazzone salve Lady Astor salve San Giovanni Battista salve Polly Adler salve Fiorello vecchio porcaccione come stai oggi? sebbene faccia di tutto per dare l'impressione di essere un filosofo fanullone nella sua carriera di bohemian Gould ha svolto una mola immensa di lavoro ogni giorno anche quando è in preda ai postumi di una brutta sbornia o quando la fame lo rende debole e svogliato dedica almeno un paio d'ore a un libro informe e assai misterioso da lui chiamato una storia orale del nostro tempo va cominciato 26 anni fa ma il libro è tutt'altro che prossimo alla fine l'assillo di quest'opera è forse la causa principale del suo modo di vivere con qualsiasi lavoro regolare, dice Gould gli impedirebbe di pensare secondo il tempo che fa Gould scrive nei parchi, negli androni nell'ingresso delle pensioncine nelle tavole calde, sulle panchine delle stazioni della sopraelevata sulla metropolitana e nelle biblioteche pubbliche quando è in vena cosa che gli accade nei momenti più strani scrive «fino allo sfinimento» Gould racconta che una notte rimase per sei o sette ore nel separare di un bar rossicceria della Third Avenue ad ascoltare il racconto della vita di una vecchia ungherese Brilla che un tempo aveva fatto la tenutaria e la trafficante di droga e ora cucinava la minestra in un ospedale municipale tre giorni dopo verso le quattro del mattino mentre dormiva su una branda dell'hotel Defender al trecento della Boveri Gould fu svegliato dalle sirene da nebbia dei rimorchiatori dell'East River e non riuscì a riaddormentarsi perché sentì di essere nello spirito giusto per inserire nella sua storia la biografia della vecchia cuoca Gould ha una memoria abnorme quando una conversazione lo colpisce è capace di tenerla a mente per molti giorni quasi sempre parola per parola anche se è lunga e sconclusionata quel giorno aveva un brutto raffreddore ma si alzò si vestì alla luce del lumino rosso che indicava l'uscita e in punta di piedi per non disturbare quelli che dormivano sulle brande tutti intorno a lui scese nell'ingresso qui scrisse dalle quattro e un quarto del mattino fino a mezzogiorno poi lasciò il Defender beve una tazza di caffè in una bettola della Boveri e andò a piedi alla biblioteca pubblica dove sgobbò a un tavolo della sala delle genealogie uno dei suoi rifugi nei giorni di pioggia Gould dice di preferirla alla sala di lettura principale perché più cupa fino alle sei del pomeriggio quando la chiusero allora si spostò nella sala di lettura principale e vi rimase senza quasi staccare gli occhi dal suo lavoro fino alle dieci quando la biblioteca serrò i battenti per la notte dopo aver mangiato un paio di tramezzini all'uovo e una buona dose di ketchup in una tavola calda di Times Square non avendo un quarto di dollaro per un albergo ed essendo troppo assorto per andare al village a cercare un riparo si infilò di corsa nella metropolitana del West Side e viaggiò per il resto della notte scribacchiando senza posa mentre il treno su cui era salito faceva tre volte il percorso di andata e ritorno tra la stazione di New Lots Avenue a Brooklyn e la stazione di Van Cortland Park nel Bronx che è uno dei tragitti più lunghi della rete metropolitana per tutto il tempo tenne la cartella in grembo usandola come scrivania Ulda la resistenza di un invasato ogni volta che la sonnolenza gli impediva di concentrarsi scuoteva il capo energicamente poi tirava fuori il sacchetto di caramelle e se ne cacciava una in bocca la gente lo guardava con tanto d'occhi e una volta un ubriaco lo interruppe per chiedergli che cosa in nome di Dio stesse scrivendo Ulda sa come togliersi dai piedi gli ubriachi ficcanaso si indicò l'orecchio sinistro e disse come? cosa c'è? sono sordo come una campana non sento una parola l'ubriaco perse ogni interesse in lui quando sono uscito dalla metropolitana stava spuntando il giorno dice Ulda tossivo esternutivo avevo gli occhi che mi bruciavano le ginocchia che mi tremavano una fame da lupo e in tasca esattamente otto centesimi ma non me ne importava un fico la mia storia si era allungata di undici mila parole nove di zecca e scommetto che in quel momento non c'era in tutta New York un banchiere più felice di me Ulda è ossessionato dal timore di morire prima di aver portato a termine la prima stesura della storia orale è già lunga come undici bibbie Ulda calcola che il manoscritto comprenda nove milioni di parole tutte scritte per esteso non è escluso che si tratti dell'opera inedita più lunga che esista Ulda scrive sui quaderni da cinque centesimi di quelli che i bambini usano a scuola e la storia orale comprese le note ne occupa già duecentosettanta tutti sgualciti sudici e macchiati di caffè di unto e di birra con la penna stilografica Ulda riempie entrambe le facciate di ogni pagina senza mai lasciare margini scrive male e centinaia di migliaia di parole può decifrarle solo lui non è mai riuscito a destare l'interesse di un editore per la storia orale in passato ne ha portate intere bracciate in quattordici diverse redazioni nella metà dei casi mi hanno detto che era oscena e scandalosa e di farla sparire di lì il più in fretta possibile racconta negli altri mi hanno detto che non riuscivano a leggere la mia scrittura le esperienze di questo genere non lo scoraggiano Kult continua a dirsi che lui intanto scrive per i posteri porta sempre con sé nel taschino sigillato in una busta incrostata di sporcizia un testamento in cui lascia due terzi del manoscritto alla biblioteca di Howard e il terzo restante alla Smithsonian Institution un paio di generazioni dopo che sarò morto e sepolto mi piace dire i dottoroni cominceranno a spulciare la mia opera immagino già la loro meraviglia che mi venga un colpo diranno questo tale era il più grande storico del secolo e riconosceranno i miei meriti non pretendo che tutta la storia orale sia di primordine ma certe parti vivranno almeno quanto la lingua inglese un tempo Gould teneva i suoi quaderni sparpagliati un po' dappertutto nel village nelle case e negli istituti degli amici li tenevano nascosti negli armadio sotto i letti o dietro le file di volumi delle librerie nell'inverno del 1942 dopo aver sentito che il Metropolitan Museum in attesa che la guerra finisse aveva trasferito i dipinti più preziosi in un magazzino a prova di bomba fuori città Gould fu preso dal panico andò in giro a raccogliere tutti i suoi quaderni e ne fece un pacco che avvolse in due strati di tela cerata poi le affidò a una sua conoscente che possiede un allevamento di anatre e polli vicino a Huntington a Long Island la fattoria ha una cantina scavata nella pietra nella storia orale Gould mette solo cose che ha visto o sentito almeno metà dell'opera è composta di conversazioni riportate parola per parola di cui il titolo ciò che la gente dice è storia dice Gould quello che un tempo pensavamo fosse storia re e regine trattati invenzioni grandi battaglie decapitazioni Cesare Napoleone Ponzio Pilato Colombo William Jennings Bryan è solo storia ufficiale e in gran parte falsa io scriverò la storia alla buona delle moltitudine di maniche di camicia quello che hanno da dire sul lavoro sull'amore sul dito sui bagordi sui guai sugli affanni oppure perirò nello sforzo la storia orale è un gran guazzabuglio una specie di mondezzaio di pettegolezzi un ricettacolo di charle uno zibaldone di frottole chiacchiere insulsaggini idiozie sbruffonate frutto secondo i calcoli di Gould di più di 20.000 conversazioni vi si trovano le biografie irrimediabilmente sconclusionate di centinaia di barboni i racconti delle peripezie di marinai incontrati nei bar di South Street le truculenti descrizioni di esperienze ospedaliere e cliniche ha mai fatto un'operazione o una brutta malattia è una delle prime domande che Gould penna e quaderno alla mano rivolge alle persone appena conosciute i riassunti di innumerevoli arringhe in Union Square e Columbus Circle le testimonianze rese da convertiti nei raduni dell'esercito della salvezza e le confuse opinioni di decine di oracoli da panchina e di saggi da bar per un certo periodo Gould ha frequentato le bettole aperte tutta la notte nelle vicinanze del Bellevue Hospital ascoltando di nascosto e trascrivendoli fedelmente gli stanchi discorsi di medici infermiere inservienti autisti d'ambulanze studenti della scuola di imbalsamazione e dipendenti dell'obitorio durante le parate Gould corre su e giù per la 50 Avenue prendendo febbrilmente appunti scrive con grande franchezza e la percentuale di oscenità della storia orale è alta ha intitolato un capitolo esempi della cosiddetta barzelletta sporca del nostro tempo al quale fa aggiunte quasi quotidiane in un altro capitolo ha raccolto numerose filastrocche e osservazioni trovate sui muri dei gabinetti della metropolitana Gould è convinto che questi scarabocchi abbiano lo stesso valore storico della strategia del generale Lee centinaia di migliaia di parole sono dedicate al comportamento degli ubriachi e alle avventure sessuali di diversi frequentatori abituali del Greenwich Village negli anni venti ci sono centinaia di racconti di feste affogate nel gin con pettegolezze sugli ospiti e fedeli trascrizioni delle loro discussioni su argomenti come la reincarnazione il controllo delle nascite il libero amore la psicanalisi lo scientismo il pensiero di Swedenborg il vegetarianismo l'alcolismo e diversi ismi politici e artistici ho spaziato su tutta quella che si potrebbe definire la malavita intellettuale del mio tempo dice Gould ci sono particolarizzate descrizioni di vita notturna in decine di locali del village dove si beve e si mangia alcuni dei quali come la Little Parques l'origine Julius la Tuba d'Urtavern il Samovar la Harbs Cafeteria il TNT di Sam Schwarz e il Last Outpost of Bohemia T-Stop di Ali Greifer non esistono più Gould è un nottambulo ed escrive le cose spaventose che vede nelle strade buie di New York per esempio le frotte di latti grigi che in alcuni quartieri di Harlem del Lower East Side escono allo scoperto nelle ore che precedono l'alba e vanno tranquillamente a spasso per i marciapiedi a volte mi convinco che questi ratti non sono affatto ratti dice Gould ma anime dannate e sofferenti dei padroni dei caseggiati popolari gran parte della storia orale è in formato di diario Gould è afflitto da una memoria totale e di tanto in tanto sceglie un periodo del passato recente può essere un giorno una settimana o un mese e annota pedantemente tutte le azioni di un certo rilievo da lui compiute in quel lasso di tempo talvolta scrive un capitolo in cui lancia invettive monotone e atroci contro una particolare persona o istituzione qui e là si trovano saggi sconnessi su argomenti come le pulci dei dormitori gli spaghetti la sernera lampo come segno del declino della civiltà le dentiere la pazia il sistema della giuria il rimorso la cucina delle tavole calde e l'effetto castrante della macchina per scrivere sulla letteratura William Shakespeare non martellava mica i tasti di uno schifoso aggezzo da 95 dollari ha scritto Gould e non lo fa neanche Joe Gould la storia orale salta di palo in frasca quasi quanto il Tristam Shandy in un capitolo intitolato gli uomini buoni muoiono come mosche Gould abbozza una biografia di un proprietario di ristorante appassionato di cavalli un certo Benny Altshuler detto scommessa che si era piantato una piccozza ruginosa nella mano ed era morto di tetano dopo qualche paragrafo passa di colpo il racconto di un marinaio che diceva di aver visto un gruppo di rebrosi bere ballare e cantare su una spiaggia di Port of Spine a Trinidad e di lì l'aneddoto della dimostrazione inscenata davanti a un cinema di Boston nel 1915 per protestare contro la proiezione di nascita di una nazione nella quale occasione Gould aveva tirato un calcio a un poliziotto poi descrive una visita al manicomio di Central Aslip dove una donna gli aveva puntato contro il dito urlando eccolo al ladro al ladro ecco l'uomo che ha raccolto i miei gerani e rubato il muro e il calessino alla mia mamma e di lì passa il racconto di un vecchio pugile suonato che una notte seduto in un androne di Griton Street aveva scorto e sentito sulla pelle le fiamme livide dell'inferno e più tardi aveva visto due sirene giocare nell'East River poco più a nord del Fulton Fish Market quindi alla spiegazione data da un prete della vecchia cattedrale di St. Patrick che si trovò in Motte Street nella parte più vecchia di Little Italy sul perché tante donne italiane si vestano sempre di nero sono in lutto perpetuo per il nostro signore e infine ritorna a Benny detto scommessa il proprietario di ristorante che si era beccato il tetano solo poche delle centinaia di persone che conoscono Gould hanno letto qualche pezzo della storia orale e quasi tutte la considerano uno sproloquio incomprensibile di solito chi ci prova si impantana dopo un paio di capitoli e rinuncia Gould dice di poter contare sulle dita di una mano o di un piede coloro che ne hanno letto a sufficienza per avere il diritto di esprimere un'opinione uno di questi è Horace Gregory poeta e critico considero Gould un aspetto di Samuel Pepys della Boveri dice Gregory una volta sono riuscito a decifrare una ventina di quei quaderni e gran parte di ciò che ho letto aveva le caratteristiche di un buon tema delle superiori ma alcune pagine erano scritte con da limpida meravigliosa veridicità dei bambini e qui e là spuntavano lampi di feroce umorismo Yankee se qualcuno si prendesse la briga di esaminare tutta l'opera separando il buono dalla feccia come hanno fatto i redattori con le migliaia di pagine di Thomas Wolfe magari si scoprirebbe che Gould ha davvero scritto un capolavoro un altro è il poeta E.E. Cummings intimo amico di Gould Cummings ha scritto una poesia su Gould la numero 261 dei suoi collected poem che contiene la seguente descrizione della storia orale un mito vale quanto un sorriso ma la virgolette storia orale virgolette del piccolo Joe Gould potrebbe notate editori intitolarsi il viaggio di un'apparizione o qualcosa di prevalentemente affiorante anche se quasi sempre sommerso o una moralità amorale che pseudo rianima mediante innumerevoli tipi di morte per tutti gli anni venti Gould bazzicò nell'ufficio del Dial la rivista più intellettuale di allora oggi scomparsa alla fine nel numero dell'aprile 1929 il Dial pubblicò uno dei suoi saggi più brevi Civiltà nel quale Gould scherniva la compravendita di azioni come un gioco da vecchie zitelle definiva i grattaceri e i vaporetti cianfrusaglie e diceva la sua sull'inutilità dell'auto se tutto il perverso ingegno dedicato a fabbricare boli di chiassosi fosse stato impiegato per migliorare la razza dei cavalli scriveva Gould l'umanità se la passerebbe molto meglio il saggio ebbe una curiosa conseguenza sulla letteratura americana una copia del numero del Dial che conteneva l'articolo comparve qualche mese più tardi in un negozio di libri usati di Fresno in California e fu comprata per 10 centesimi da William Saroyan che allora aveva 20 anni e voleva a tutti i costi diventare uno scrittore Saroyan lesse il saggio di Gould e ne fu profondamente colpito e cambiato mi liberò dalle preoccupazioni della forma dice dodici anni dopo nell'inverno del 1941 nello studio di Don Freeman in Columbus Circle Saroyan vide alcuni ritratti di Gould eseguiti dallo stesso Freeman per il Don Freeman News Stand un trimestrale new yorkese di immagini di luoghi e personaggi curiosi edito dalla Associated American Artist Saroyan era emozionatissimo raccontò a Freeman il suo debito di riconoscenza nei confronti di Gould ma chi diavolo è domandò Saroyan sono anni che cerco di scoprirlo leggere quelle poche pagine sul deal è stato come andare nella direzione sbagliata per poi imbattermi nella persona giusta e non rivederla mai più Freeman gli disse della storia orale Saroyan si sedette e scrisse un commento con cui accompagnare le immagini di Gould sul News Stand tra le altre cose scrisse a tutt'oggi non ho letto altro di Joe Gould eppure per me quest'uomo resta uno dei pochi scrittori americani genuini e originali Gould è spigliato e chiaro mentre quasi tutti gli altri scrittori americani sono impacciati e farraginosi a disagio per tutto troppo forzati deprimenti un po' malsani letterari e non riescono a dire niente in maniera semplice tutti gli altri scrittori americani cercano di infilarsi nell'una o nell'altra forma e nessuno tra le Gould ha sufficiente immaginazione per capire che quando le cose si mettono male non c'è bisogno di alcuna forma non c'è bisogno di mettere quello che hai da dire in una poesia un saggio un racconto un romanzo devi dirlo e basta non molto tempo dopo la pubblicazione di questo numero di New Stand qualcuno fermò Gould in Hyde Street e gli mostrò l'elogio di Saroyan alla sua opera Gould fece spallucce veniva da una festa dove aveva perso la dentiera e in quel momento non era interessato alle questioni letterarie ripensandoci però decise di far visita a Saroyan per chiedergli di aiutarlo a farsene una nuova chissà come scoprì che Saroyan viveva nella Hampshire House in Central Park South il portiere seguì Gould nell'atrio e gli domandò che cosa volesse Gould gli disse che era venuto a trovare William Saroyan conosce il signor Saroyan domandò il portiere che diamine no disse Gould ma non importa è un mio discepolo discepolo in che senso domandò il portiere nel senso disse Gould che è un mio discepolo letterario voglio chiedergli di comprarmi i denti denti domandò il portiere denti in che senso nel senso di denti finti disse Gould di dentiera venga con me disse il portiere affreddandogli il braccio e riaccompagnandolo in strada più tardi Freeman combinò un incontro e i due passarono parecchie serate insieme nei bar Saroyan continuava a ripetere che voleva sapere tutto della storia orale dice Gould ma non ho avuto modo di raccontargli niente parlava sempre lui non riuscivo ad aprire bocca a quanto ricorda Gould è sempre rimasto sconcertato dalla propria personalità nella storia orale vi sono parecchi saggi autobiografici e Gould afferma che sono tutti tentativi di spiegarsi a se stesso in uno intitolato perché sono incapace di adattarmi alla civiltà così com'è ovvero fa non fare fa non fare una nota infernale è giunta alla conclusione che responsabile di tutto è la sua timidezza sono un impasto di introversione ed estroversione ha scritto un miscuglio conflittuale di detenuto e banditore della Sixth Avenue un piede dice chiudi il becco un altro dice muggia come un toro sono penosamente timido ma cercate di non dirlo in giro se ne approfitterebbero Gould tiene ben nascosta la sua timidezza che si nota solo quando è del tutto sobrio allora diventa taciturlo sospettoso e impacciato ma un paio di birre e un solo bicchierino di gin sono sufficienti a sciogliergli la lingua e a mettergli in faccia un'espressione equivoca ha un'incredibile sensibilità all'alcol nelle sere calde dice per prendermi una sbornia mi basta camminare dieci minuti su e giù davanti a un bar respirando a fondo anche se non ha bisogno di bere molto procurarsi quel poco può essere un'impresa quasi tutte le sere Gould s'aggira per i bar e le taverne del Greenwich Village facendo la posta ai turisti in cerca di stranezze così riesce a scroccare birre, panini e piccole somme di denaro quando non trova nessuno di abbordabile nei turbolenti bar intorno a Sheridan Square se ne va nella Sixty Avenue e di lì punta verso nord passando dalla Gialico Taverna dal Village Square Bar e Grill dal Belmar dal Goudis e dal Rochambeau alle sue consuetudini non entra mai in un posto se non è affollato quando è dentro si fa strada fino alla cabina del telefono e finge di cercare un numero intanto esamina gli avventori se vede un possibile cliente gli si avvicina e dice mi permette di presentarmi mi chiamo Joseph Ferdinand Gould laureato ad Howard magnacum difficoltate classe 1911 presidente del consiglio d'amministrazione della buona e cattiva sorte S.P.A. in cambio di un bicchiere reciterò una poesia terrò una conferenza sosterrò una tesi oppure mi toglierò le scarpe e farò l'imitazione del gabbiano preferisco il gin ma va bene anche la birra Gould non è fatto un parassita il divertimento che offre vale ai suoi occhi ciò che riesce a rimediare non è mai servile e neppure riconoscente se lo mandano via con buon garbo fa spalluccia e se ne va se invece il possibile cliente si lascia scappare un commento come levati dai piedi scroccone allora Gould inculante delle dimensioni dell'altro lo aggredisce con qualche scurrile staffilata della sua voce stridula e nasale non bada a ciò che dice quando gli monta la mosca al naso diventa impavido a sciacatere la cartella si mette in guardia e sfida uomini che potrebbero ucciderlo con mezzo scappellotto se percorrendo la 60 Avenue non trova che voglia ascoltarlo Gould in bocca la 11th Street in direzione ovest e punta verso il village Vanguard che si trova in una cantina alla 60 Avenue South un tempo il Vanguard era uno sgangherato ritrovo di pseudo artisti ma oggi è un prospero locale notturno Gould e il proprietario un tizio di nome Max Gordon si conoscono da molti anni e sono per lo più in buoni rapporti Gould spara la cartuccia del Vanguard per ultima è un posto sicuro e lo tiene di riserva il locale da quando è stato toccato dalla prosperità lo infastidisce Gould scende le scale e dice ciao Max durido capitalista voglio qualcosa da mettere sotto i denti e una birra se no vado dritto nella pista da ballo e do in escandescenze veditela con il cuoco gli dice Gordo Gould va in cucina mangia quello che il cuoco gli dà beve un paio di birre riempie un sacchetto di briciole e riparte nonostante la timidezza Gould ha una vera passione per le feste nel village ci sono parecchie persone che danno grandi ricevimenti con una certa frequenza fra cui un vecchio dottore ricco e stravagante una zitella piena di soldi un famoso scenografo una famosa coppia di attori di teatro e innumerevoli pittori scultori scrittori direttori di giornali ed editori il più delle volte quando scopre che una di queste persone dà una festa Gould ci va e il più delle volte gli permettono di restare di solito se ne sta per un po' sulle sue fumando impacciato una sigaretta dopo l'altra rigido come un baccalà per la tensione prima o poi però spinto da qualche bicchierino dalla disperazione degli imbarazzati comincia a fare lo sbruffone sceglie la donna più carina della sala si avvicina fa un inchino e le bacia la mano racconta di storie disdicevoli sul proprio conto diventa esuberante di punto in bianco senza apparente ragione ridacchia contento fa un salto e batte i tacchi chi è favorevole a uno spettacolo di monovarietà dica per piacere sii se appena ottiene il minimo ancoraggiamento si spoglia fino alla cintola ed esegue una danza in cui batte le mani ai piedi dice di averla imparata in una riserva di cippevo nel nord Dakota e la chiama la ridda di Joseph Ferdinand Gould mentre balla canta una vecchia canzone dell'esercito della salvezza ci sono mosche su di me ci sono mosche su di te ma non ci sono mosche su Gesù poi fa l'imitazione del gabbiano si toglie scarpe e calze e saltella goffamente per la sala con la testa protesa in avanti sbattendo le braccia e lanciando uno strido lacerante a ogni balzo da bambino aveva come animali da compagnia parecchi gabbiani e ancora oggi passa molte domeniche a Shipshide Bay a osservare gli uccelli in fondo al molo dei pescatori sostiene di capirne così bene gli stridi che può tradurre poesie nella loro lingua dice ho tradotto alcune poesie di Henry Wotsford Longfellow nella lingua dei gabbiani immancabilmente in tutte le feste a cui va Gould monta su una sedia o su un tavolo e tiene una lezione queste lezioni sono brani di capitoli della storia orale anche se brevi Gould dà loro titoli lunghissimi per esempio Brillo come un grillo ovvero come misurai la testa di 1500 indiani a temperatura zero oppure la terribile moda del pomodoro ovvero state attenti state attenti abbasso il dottor Gallup Gould è scettico nei confronti della statistica nella seconda delle due lezioni servendoci di alcune statistiche che sostiene di aver trovato nelle pagine finanziarie dei giornali dimostra che negli ultimi sette anni l'ingestione di pomodori da parte dei macchinisti è stata responsabile del 53% dei disastri ferroviari avvenuti negli Stati Uniti di solito quando Gould arriva a una festa chi non lo ha mai visto gli dà un'occhiata e sta alla larga prima della fine della serata però almeno un paio di queste persone cominciano a nutrire per lui una specie di sconcertato rispetto lo spingono in un angolo gli fanno domande e cercano di capire che cosa ci sia di sballato nella sua testa Gould si diverte una notte una giovane donna gli disse quando mi è venuto accanto e mi ha baciato la mano mi sono detta che gentile questo vecchio signore un attimo dopo mi sono girata e ho visto che stava saltellando su e giù senza camicia imitando un indiano scatenato sono rimasta di sasso che gusto ci trova a fare l'esibizionista signora le disse Gould i Bohemian hanno il dovere di dare spettacolo di se stessi se la mia mancanza di etichetta le fa credere che io sia rincretinito dall'alcol oppure che sia scappato dal manicomio si tenga stretta questa sua convinzione se la tenga stretta se la tenga stretta e riveli a tutti la sua ignoranza